È un grande onore e piacere avere oggi fra noi, anche se a distanza, la professoressa Teodolinda Barolini, nata a Syracuse, nello stato di New York, figlia del giornalista, poeta e scrittore vicentino Antonio Barolini e della scrittice Ellen Mollica. Teodolinda occupa la cattedra Lorenzo da Ponte alla Columbia University di New York. È una dantista stimata a livello internazionale, autrice di autorevoli saggi sulle opere del sommo poeta. È accademica olimpica, corrispondente, perché nata e residente all'estero, è accademica dei lincei, nonché componente di prestigiose accademie americane. È stata, fra l'altro, presidente della Dante Society d'America. Il titolo della sua conferenza, che viene a far parte del ciclo delle letture dell'Accademia Olimpica per il centenario dantesco, è il limbo di Dante e l'equità di accesso, ovvero il destino delle persone morte senza battesimo, infanti, pagani, eseguaci di altre fedi, virtuosi nello spirito e nelle azioni. Passo ora la parola all'accademico Paolo Danaro, poeta e scrittore, per la sua introduzione al tema. Abbiamo superato il Dante di, si fa per dire naturalmente, ridotto un po' a una polpetta televisiva farcita e servita dal nostro più celebre ex comico, cioè Roberto Benigni. L'anno dantesco comunque prosegue e anche l'Accademia Olimpica prosegue nel suo impegno, offrendo oggi, dopo la bella lezione tenuta dal professor Renzi sul De vulgari eloquenzia, un intervento di Teodolinda Barolini, docente alla Columbia University di New York, ma vicentina per parte di padre, dato che è figlia di Antonio Barolini, noto romanziere, poeta e scrittore vicentino, trasferitosi negli Stati Uniti negli anni 50. Mi sono domandato se le celebrazioni dantesche abbiano rimesso in moto uno spirito nazionale sano, genuino, non corrotto, come quello della propaganda fascista. Non lo so, avere alle spalle una gloria letteraria di tali proporzioni è certo una ragione di orgoglio che le complicate e turbolente vicende politiche del nostro paese, quando ancora non esisteva e quando è esistito concretamente, non possono offuscare. Dante per certi aspetti è l'Italia, con i suoi drammi, con la sua violenza, con la sua dolcezza, con le sue contraddizioni. Un guelfo è dunque un papista che scivola a poco a poco nel ghibellinismo foscolo, semplifica un po' nei sepolcri quando lo chiama il ghibellin frugiasco, ma in fondo ha ragione. Sembra riassumere, quest'uomo, molte vicende umane e morali di questo paese in cui il privilegio si è volto spesso e volentieri nel suo rovescio, cioè nella lotta contro quel privilegio stesso. Si pensi all'esemplare figura dell'innominato manzoniano che in una notte disperata, fatidica, passa dal crimine alla virtù. La commedia, al di là dei suoi molteplici significati, è anche il racconto pieno di rimpianti e di invettive tremende di un dramma politico, consumato nei tempi e nei modi di un'Italia medievale, ma provvisto di connotazioni e di aspetti che lo rendono in qualche modo universale. Aveva ragione Bruno Nardi, il contenuto della commedia non è un contenuto teologico, è l'esistenza di Dante. Non è che la commedia sia solo questo, lo sappiamo bene, ma è soprattutto questo. Ed è il motivo per cui a volte è così difficile, se non abbiamo le coordinate necessarie, perché le cose di cui parla Dante sono lontanissime e non sempre c'è un'analogia evidente tra quelle e le cose che ci sono vicine. Penso invece che l'interesse, la passione per Dante, che periodicamente si rinnova, sia in realtà la passione per i grandi problemi che finiscono per contagiare ogni generazione. Oggi siamo esseri dotati di raffinate protesi informatiche, telefoniche, ma la questione di Dio, la questione dell'immortalità, la questione della trascendenza, della colpa, della pena, del dolore, la questione dell'amore, quell'amore che muove il sole e le altre stelle, è un'idea stupefacente e che oggi è molto difficile, per non dire quasi impossibile, capire perché è l'amore dell'infinito verso di noi. Ecco, dico, queste idee continuano a sollecitarci. Ed è lì che troviamo Dante, un poeta di sette secoli fa, che racconta una storia di faticosa e immaginaria redenzione attraverso una serie impressionante di quadri concettuali e morali consegnati ai lettori nelle forme scintillanti e disciplinate della poesia. Peccato che la scuola italiana abbia trasformato un po' la commedia in un breviario edificante e ne abbia fatto un feticcio letterario e ideologico che finisce per nascondere molte altre cose. La commedia va letta, certamente, e no, va letta in parte, e no i dieci più dieci più dieci. E' spiegata in modo chiaro, asciutto, è una lettura che va fatta, perché nei suoi canti risuona non solo la fede adamantina di un uomo, ma il furore di una vita spesa in cento battaglie, quasi sempre perdute, confluite alla fine in un lungo e incredibile delirio creativo che imprimerà un marchio indelebile nella nostra poesia e nella nostra lingua e non solo nella nostra. Samuel Beckett, una volta scrivendo del Dante di Papini, disse che cercare di rendere amabile Dante era un'impresa senza senso, al di là dello spiccolosissimo carattere del luogo. Aggiungeva Beckett, in fondo, chi davvero vuole amare Dante? Vogliamo leggerlo? E basta, concluse. Ecco, io qui mi fermo e lascio la parola a Teodorinda Barolini. Vi parlo da New York e vi auguro buon centenario dantesco. Il limbo di Dante è l'equità di accesso. Il limbo è un concetto radicato nel bisogno della società di conciliare i sentimenti dei laici riguardo all'esclusione dalla salvezza dei bambini non battezzati. Uno spazio teologico che si è evoluto nel tempo nel tentativo di gestire l'ansia dei credenti. In quanto spazio possibile in cui concepire un accesso equo alla salvezza divina, il limbo è sempre stato suscettibile a istanze di giustizia sociale. Ma, nella storia del limbo, Dante è un caso unico, poiché Dante ne intuisce sia l'anelito umano verso la giustizia, sia la natura maleabile del luogo. Ed è unico nella capacità di accordare sue istanze di giustizia con una energia creativa, davvero vulcanica, che gli consente di intervenire vigorosamente nella storia di questa idea religiosa. Dante inventa una anomalia nella storia del limbo, Il limbo dei pagani virtuosi, graziati dalla luce di un fuoco alla destra, nel dettaglio che vedete, da un nobile castello e da un verde prato, tutti visibili in questo dettaglio dell'inferno di Botticelli. La singolare scelta dantesca di usare il limbo per celebrare i virtuosi non cristiani porta agli straordinari elenchi multiculturali di Inferno 4, elenchi di personaggi ebrei, greci, romani, egiziani e musulmani. E' un segno poi del grande valore che Dante pone sulla trasmissione interculturale, il processo in cui le idee si trasmettono attraverso i secoli, passando anche ad altre culture e ad altri popoli. Questo fondamentale interesse, Dante viene colto e puntualizzato da Boccaccio nel suo commento. Boccaccio basa la sua distinzione tra pagani la cui ignoranza del cristianesimo è ignoranzia fatti e pagani la cui ignoranza è ignoranzia iuris sull'avere avuto o meno accesso all'insegnamento delle leggi cristiane. Dante crea in effetti due categorie di non cristiani virtuosi, dando più attenzione alla prima, la categoria di quelli che sono esclusi per ragioni cronologiche, essendo nati prima della venuta di Cristo, e la seconda categoria di quelli che sono esclusi per ragioni geografiche, nati dopo la venuta di Cristo, ma in terre non cristiane. In Inferno 4, Dante tratta l'esclusione temporale, mettendo l'enfasi sui molti greci e romani illustri e meritevoli che sono morti prima della nascita di Cristo, dinanzi al cristianesimo. Più tardi, nel cielo di Giove, Dante solleva la categoria dei virtuosi non cristiani che sono esclusi per ragioni geografiche, lanciando una sfida contro quella giustizia che potrebbe condannare un uomo perfettamente virtuoso che fosse nato all'arriva dell'Indo. Il limbo, come Dante lo concepisce, ospita principalmente i virtuosi pagani, ovvero non cristiani dell'antichità classica. Tuttavia, e qui incontriamo una notevole inconsistenza nel sistema dantesco, Dante include nel suo limbo anche le anime di tre musulmani virtuosi, nati molti secoli dopo l'inizio del cristianesimo. Inoltre, perfino il problema di come costruire la categoria delle anime vissute dinanzi al cristianesimo è complesso, come Boccaccio osservò nelle sue esposizioni in cui si chiede se sia legittimo includere nel limbo insieme ai non cristiani adulti vissuti interamente prima della nascita di Cristo anche alcuni non cristiani adulti che erano vissuti dopo la venuta di Cristo. E di questi cotali pone l'autore alquanti, come è Ovidio, Lucano, Seneca, Tolomeo, Avicenna, Galieno e Averois. È proprio la presenza nel limbo dantesco dei non cristiani che vissero nell'era cristiana che spinge Boccaccio a formulare la distinzione legale importata dal diritto canonico, come Boccaccio spiega, tra ignoranzia fatti e ignoranzia iuris. La ignoranzia fatti è scusabile. Non c'è colpevolezza dove c'è vera ignoranza. Quindi, per le anime di coloro che vissero prima della nascita di Cristo e prima della discriminazione, scusate, della disseminazione delle leggi cristiane, la mitigazione della pena dell'inferno è giustificabile. E perciò, se per altro ben vissero, non aver altra pena meritata che quella che semplicemente per lo peccato originale è dato a coloro. Però, continua Boccaccio, dopo la disseminazione del Vangelo, la pena deve essere maggiore. E però se, dopo la dottrina evangelica predicata per tutto e alcuno che quella seguita non abbia, seguita non abbia, quantunque per altro virtuosamente vivuto sia, siccome degno di maggior supplizio per la sua ignoranza, non deve a simil pena essere punito con gli innocenti, ma a molto più agra. In altre parole, l'inclusione nel limbo, sotto il segno di essere un pagano colpevole solo di non conoscere Cristo, diventa tanto più difficile da giustificare quanto più si avanza nell'era cristiana. Tornando alla lista bocacesca dei non cristiani nati nell'era cristiana, Ovidio, Lucano, Seneca, Tolomeo, Avicenna, Galieno e Averuiz, riordiniamo queste anime secondo l'anno di nascita. Prima ci sono coloro nati prima della nascita di Cristo, ma vissuti poi entro l'era cristiana. Ovidio era vissuto dal 43 avanti Cristo al 17 dopo Cristo e Seneca dal 4 avanti Cristo al 65 dopo Cristo. Poi ci sono coloro che vissero nei primi due secoli dell'era cristiana, Lucano, Tolomeo e Galeno. Ma il punto importante riguardo a queste anime di inferno 4 che vivono dopo la venuta di Cristo non è rappresentato da pagani liminari come Ovidio e Seneca, né da coloro vissuti nei primi secoli cristiani, ma dai non cristiani contemporanei che non di meno Dante ritiene così virtuosi da collocarli nel suo limbo. Sono i tre musulmani virtuosi. Il filosofo Avicenna, il filosofo Averoe e Saladino, grande guerriero e sultano d'Egitto. Ecco un diagramma cronologico delle dieci anime del limbo dantesco che vissero dopo la nascita di Cristo. Il gruppo comprende i sette non cristiani della lista del Boccaccio più Saladino, Giovenale e Persio, gli ultimi due poeti aggiunti al limbo in Purgatorio 22. Il diagramma rende visibile quanto i tre musulmani siano distanti nel tempo dagli altri non cristiani vissuti dopo Cristo. Boccaccio, bisogna dirlo, non tratta i musulmani virtuosi che Dante mette nel suo limbo come se rappresentassero un problema più grave dei pagani della tarda antichità. Eppure, la stessa analisi di Boccaccio basata sulla disseminazione della dottrina evangelica indica che il problema posto dalla presenza dei musulmani sia necessariamente più grave. I molti secoli che separano Avicenna e Averoei da Tolomeo e Galeno garantiscono una maggiore disseminazione dell'insegnamento cristiano. E infatti i musulmani che ritengono Cristo un profeta non possono essere considerati ignoranti rispetto al cristianesimo. Poiché molti musulmani vivevano in terre non cristiane, mi sono posta la questione se forse per Dante siano categorizzati quali geograficamente e non temporalmente distanti dal cristianesimo. Ma la premessa della categoria dantesca di esclusione geografica è proprio la mancanza di accesso all'insegnamento cristiano, il che non è il caso per i musulmani. Ho deciso quindi di seguire il contemporaneo Boccaccio, il quale accetta senza segno di turbamento il fatto che l'analisi dantesca unisca i musulmani virtuosi dell'era cristiana ai pagani virtuosi dell'antichità. È però necessario registrare la notevole inconsistenza di Dante. Dante ignora la sua stessa rubrica dinanzi al cristianesimo per mettere dei musulmani virtuosi nel suo limbo. Il suo desiderio di includerli è proporzionale alla disponibilità a violare le sue stesse regole per farlo. Perché poi Boccaccio, così turbato dalla morte di Ovidio, solo 17 anni dopo la nascita di Cristo, non è poi turbato dalla presenza di musulmani che conoscevano bene il cristianesimo? Perché Dante si sente giustificato nell'includere Saladino a Vicenna e a Verroè nel suo limbo? Perché li ritiene così virtuosi? Queste domande saranno, io spero, affrontate da altri nel futuro. Per ora offro un po' di contesto storico. Dante non scrive mai di Averroè con asprezza, come il suo contemporaneo, il filosofo Cecco d'Ascoli. Il quale nella cerba denuncia quale eretico il falso Averroise. Invece di denunciarlo, Dante mette Verroè nel suo limbo e lo fa descrivere da Stazio quale più savio di te. Possiamo considerare anche l'affresco del trionfo di San Tommaso nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze. L'opera, creata meno di 50 anni dopo la morte di Dante, dimostra quanto la posizione dantesca fosse fuori luogo. Il pittore Andrea di Bonaiuto raffigura tre eretici sotto i piedi di San Tommaso. Sabellio Averroè, al centro, e Ario. Dante nel Paradiso nomina sia Sabellio sia Ario tra gli stolti che falsificano la scrittura. Ma per lui Averroè non è un eretico. Boccaccio è, come al solito, più caldo di Dante. Concludendo la discussione sugli ignorantes iuris così, non di meno che che qui per me detto sia, io non intendo di derogare in alcuno atto alla cattolica verità. Ma, come ho detto, Boccaccio si preoccupa più per Ovidio, quasi più che alcun altro effemminato e lascivo uomo che per i tre musulmani, i quali non vengono messi in evidenza rispetto agli altri nella lista che ho già citato. Per Boccaccio, Averroè è un campione della trasmissione culturale e quindi un campione dell'equità nell'accesso alla conoscenza. Ecco un altro bellissimo esempio del limbo di Dante. Aristotele può ben essere il maestro di coloro che sanno, ma, come dice Boccaccio, Aristotele è conosciuto in Occidente grazie unicamente all'opera magistrale del suo commentatore, Averrois, che è il gran commento feo. Cito da Boccaccio, E' il vero che la scienza di questo famosissimo filosofo lungo tempo sotto il velamento di una nuvola di invidia e di fortuna stette nascosa. In meraviglioso pregio continuandosi appoi valenti uomini la scienza di Platone. Nei è assai certo se avvenire ancora fosse Averrois se ella sotto quella medesima si dimorasse. Costui adunque, se vero è quello che io ho talvolta udito, fu colui che prima, rotta la nuvola, fece apparire la sua luce e venirla in pregio. Intanto che oggi quasi altra filosofia che la sua non è dagli intendimenti seguita. Ricordiamo che la concezione tradizionale del limbo postula un limbus patrum e un limbus infantum o limbus puerorum. Il limbus patrum è la temporanea condizione dei santi del Vecchio Testamento nell'attesa di essere liberati da Cristo. I giusti della Bibbia sono destinati alla gloria. dopo la sua discesa agli inferi, Cristo li trasporta dal limbo al paradiso. Di anime che appartengono a questo gruppo, in Inferno 4, Dante elenca i seguenti. Adamo, Abele, Noè, Mosè, Abramo, Davide, Giacobbe con il padre Isacco, i suoi dodici figli e la moglie Rachele. Il limbus infantum è la condizione permanente degli infanti e dei bambini che erano morti prima di ricevere il battesimo. È negata loro la salvezza e il limbo e quindi il loro domicilio eterno. Dante non si interessa ai bambini non battizzati, discostandosi così dai teologi, sia dai teologi a lui contemporanei, sia dai teologi di oggi. Secondo la concezione ortodossa del limbo, le anime degli infanti non battizzati sono le uniche che rimangono nel limbo dopo che Cristo, nella discesa all'inferno, libera i giusti del Vecchio Testamento. Nel 1300, quindi, quando Dante visita l'Ottretomba, il limbo il limbo avrebbe dovuto ospitare solo gli infanti non battezzati. La deviazione di Dante dalla concezione teologicamente ortodossa del limbo è subito evidente. Descrivendo le moltitudini di anime, il poeta spiega che sono composte di infanti e di femmine e di viri. Dei tre gruppi, solo gli infanti possono essere pensati in un limbo teologicamente corretto. La presenza qui di adulti già indica chiaramente che Dante si è spinto in una direzione diversa e tutta personale. Secondo la spiegazione di Virgilio, queste sono le anime di coloro che non hanno commesso personalmente alcun peccato ma che non ebbero battesimo. qui Dante prende a prestito la categoria ortodossa dell'esclusione per ragioni cronologiche, una categoria concepita per l'esclusione temporanea dei giusti della Bibbia, riutilizzandola per i pagani virtuosi. I soli difetti delle anime del limbo sono quelli notati da Virgilio. Per tali difetti non per altro rio siamo perduti. Riguardo alla frase per tali difetti Boccaccio così commenta cioè per cose omesse non per cose commesse. La chiara diretta e consolante spiegazione di Virgilio riguardo alla sua dannazione diventerà meno chiara e assai meno consolante via via che si procede nella commedia grazie alla scoperta di pagani salvati nel purgatorio e nel paradiso. Il primo pagano salvato si trova in purgatorio 1 Catone Luticense per il quale Dante aveva già espresso grande differenza nel convivio. Successivamente nel purgatorio Dante aggiunge alla sua schiera di pagani salvati il poeta Stazio. Nel paradiso aggiunge l'imperatore Traiano e l'eroe Troiano raccontato nell'Eneide Rifeo. È importante ricordare che una esclusione totale di pagani dal paradiso non sarebbe stata problematica per i lettori contemporanei di Dante seppur esisteva la dottrina della fides implicita i teologi contemporanei tendevano ad ignorarla. Dante solleva di nuovo la questione della salvazione dei non cristiani nel cielo di Giove dedicato alla giustizia dove crea la categoria di coloro che sono esclusi dal paradiso per criteri geografici riferendosi a indiani etiopi e persiani. In paradiso 19 Dante Pellegrino chiede come possa essere giusto escludere dal paradiso un uomo perfettamente virtuoso nato alla riva dell'Indo. Un uomo nasce alla riva dell'Indo e quivi non è chi ragioni di Cristo né chi legga né chi scriva e tutti i suoi voleri e atti buoni sono quanto ragione umana vede senza peccato in vita o in sermoni muore non battezzato e senza fede ov'è questa giustizia che lo condanna ov'è la colpa sua se non crede. Ho detto che la premessa della categoria dantesca di esclusione geografica è la mancanza di accesso all'insegnamento cristiano e qui viene puntualmente specificato la mancanza delle tre funzioni verbali di trasmissione e qui vi non è chi ragioni di Cristo né chi legga né chi scriva. La risposta diretta alla domanda qui posta ov'è questa giustizia che lo condanna è un promemoria pungente rispetto alla deficienza della conoscenza umana. Ma c'è anche una risposta indiretta che assume la forma di un suggerimento che si materializza più avanti nel canto. Quando viene detto che nel giorno del giustizio è possibile che un etiope sia salvato e che molti cristiani invece siano condannati. L'etiope termine usato per indicare gli africani in quel periodo è un non cristiano che appartiene alla categoria dell'esclusione per ragioni geografiche e spaziali come l'uomo nato sulle rive dell'Indo. Nella commedia i riferimenti agli indiani e agli etiopi vengono accuratamente coordinati come gli assiani ed africani di monarchia 3-14. Una ulteriore risposta indiretta alla provocazione dantesca sulla ingiustizia divina ci arriva in Paradiso XX dove Dante ritorna alla categoria temporale e cronologica presentando due inclusioni finali nella sua schiera dei pagani salvati nella commedia Traiano e Rifeo. In ragione della leggenda di Papa Gregorio Magno il quale con le sue preghiere ardenti ha risuscitato Traiano in modo che potesse morire una seconda volta da cristiano Dante non ha difficoltà a proporre il caso della salvazione dell'imperatore Invece riguardo agli altri suoi pagani salvati Catone Stazio e Rifeo Dante si trova da solo passa oltre la generica indicazione che i pagani possono essere salvati attraverso la dottrina della fide simplicita e si spinge a una esplicita nomina di individui pagani scelti per la salvazione da lui e non approvati dalla tradizione In termini strettamente teologici la salvazione di un pagano vissuto molto tempo prima del cristianesimo è meno perturbante della salvazione di un pagano vissuto durante il cristianesimo come abbiamo visto Boccaccio solleva dei dubbi perfino rispetto all'offerta del limbo ai pagani che vissero dopo la nascita di Cristo sebbene la residenza nel limbo non faccia che mitigare la pena dell'inferno la stessa discriminante di natura cronologica che Boccaccio applica ai non cristiani che Dante mette nel suo limbo deve essere applicata ai non cristiani che Dante salva a parte di Feo gli altri tre pagani salvati della comedia sono tutti personaggi storici di cui solo uno catone vissuto prima di Cristo invece il poeta Epico Stazio come l'imperatore Treano disse nell'era cristiana ecco i pagani salvati della comedia in ordine cronologico a cui aggiungo per curiosità un diagramma come quello presentato prima che serve però solo a dimostrare una strana sincronia se nel caso dei virtuosi del limbo vissuti dopo la nascita di Cristo Dante si estende molto nel futuro nel caso dei pagani salvati si estende molto nel passato non c'è anticipazione nel canto del limbo riguardo alla possibilità dei pagani salvati nell'oltre tomba dantesco eppure in Inferno 4 il tema dei pagani salvati viene sottilmente anticipato da una domanda che il pellegrino pone alla sua guida uscici mai alcuno o per suo merto o per altrui che poi fosse beato Dante vuole sapere se ci sono state delle anime che sono uscite dal limbo per il paradiso e se ciò è avvenuto per merito proprio o per merito di qualcun altro nel contesto di Inferno 4 questa domanda consentirà a Virgilio di parlare della discesa di Cristo e della liberazione dal limbo delle figure bibliche più tardi il lettore capirà che i due modi i due metodi suggeriti per ottenere la liberazione per merito proprio o per quello di qualcun altro valgono anche per i pagani salvati per i quali la intercessione e l'educazione sono fondamentali in conclusione di recente abbiamo assistito all'emergenza di nuovi atteggiamenti rispetto al limbo e di conseguenza ci è stata offerta la possibilità di osservare la funzione storica di questo spazio in seno all'immaginario cattolico la recente riforma della dottrina vaticana sul limbo ci dimostra che il destino dei bambini non battezzati sia tanto importante per i credenti di oggi quanto lo era stato nel medioevo l'idea tradizionale del limbo quale luogo in cui viene mitigata la pena dei bambini innocenti che sono morti prima del battesimo si è fatta sempre meno accettabile per via di mutamenti nei costumi per esempio oggi il battesimo viene spesso celebrato più tardi nella vita di un infante di quanto non avvenisse tradizionalmente il corredo battesimale di mio padre nato a Vicenza nel 1910 andrebbe bene a un infante la cui età viene misurata in giorni viene misurata in giorni o al massimo qualche settimana non in mesi mentre i genitori di oggi aspettano non di rado tre mesi o ancora più i cambiamenti sia nei costumi sia negli atteggiamenti dei credenti hanno progressivamente fatto pressione sulla chiesa e sulla dottrina che manda dei bambini innocenti all'inferno per l'eternità i recenti cambiamenti nella teologia del limbo vengono esplicati in un documento intitolato la speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza battesimo commissionato da Papa Giovanni Paolo II e redatto dalla Commissione Teologica Internazionale fu pubblicato il 19 gennaio 2007 la conclusione del documento dichiara che esistono forti ragioni per sperare che Dio salverà questi bambini poiché non si è potuto fare ciò che si sarebbe desiderato di fare per loro cioè battezzarli nella fede e nella vita di Cristo della Chiesa scusate alla luce dell'asserzione che ci sono forti ragioni per sperare che Dio salverà questi bambini il limbo di Dante forse non ci sembra più così radicale ma in realtà resta radicale Dante non aveva un grande interesse nei bambini che hanno sempre attirato l'attenzione di chi si preoccupava della giustizia del limbo il limbo di Dante è diverso l'attenzione di Dante non va ai bambini non battezzati figli di genitori cristiani ma a un gruppo totalmente diverso quello di coloro a cui è stato negato l'accesso per ragioni culturali che fossero ebrei biblici romani greci musulmani egiziani indiani etiopi persiani o troiani soltanto Dante e Dante soltanto immagina e desidera un limbo che mitighi la sofferenza non dei bambini non battezzati di genitori cristiani ma di non cristiani adulti Dante usa il concetto del limbo per impegnarsi nell'appassionata promozione di grandi anime virtuose appartenenti a culture e religioni diverse dalla propria ed è ciò che rende il limbo di Dante innovativo sia rispetto ai suoi tempi che ai nostri grazie Grazie.